Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa quattordicesima lezione di tutorial sulla programmazione in linguaggio C e C++ semplificata per non informatici. Come sempre ci occuperemo di un esercizio per poter introdurre quelle che sono le strutture, quindi partendo dal diagramma di flusso a poi le sintassi di linguaggio C e linguaggio C++. Per oggi ci andremo ad occupare di un'ulteriore struttura ciclica, iterativa e precisamente dell'istruzione che poi nei linguaggi di programmazione viene scritta con il do while. Allora, questo tipo di istruzione è abbastanza semplice da memorizzare, proprio perché che cosa significa? Allora, intanto quando è che posso utilizzarla? Io la posso utilizzare quando posso cominciare a fare una sequenza di istruzioni e poi alla fine di queste controllare una condizione. Se è vera finisco di fare, diciamo, il mio loop di istruzioni, altrimenti se non è verificata io continuo a ripetere le stesse azioni. Quindi, che cosa... Allora, sono due strutture cicliche molto importanti queste. Prima di tutto perché io ho una condizione di uscita. A differenza del for, che io so a priori quante volte compio il ciclo, perché io so che il mio numero N di cicli è già a priori noto. Qua non lo so quanto ripeterò le volte il ciclo. Dipende dalla mia condizione di uscita, la condizione di fine. Potrà verificarsi dopo una volta, dopo 50 volte, non si sa. Ma sicuramente io devo compiere, almeno una volta, il mio blocco di istruzioni. Quindi devo, cioè queste istruzioni mi permette di compiere, quindi quando faccio il do, che sia verificato o no la condizione, sicuramente prima faccio il tutto e poi vado a verificarla. Allora, mentre il discorso del while, che vedremo nelle prossime lezioni, mi controlla a priori la condizione e se è vera mi esegue le istruzioni, altrimenti non me le esegue neanche una volta. Questi sono due concetti fondamentali. Allora, io in genere li spiego in questo modo, proprio per capire quanto è importante una rispetto all'altra. Allora, io faccio conto di essere su, che ne so, un bordo di un precipizio, ok? Sono su un bordo del precipizio. Cosa faccio? Io faccio il passo e poi controllo che vada tutto bene o controllo prima che, cioè se vado di sotto e al limite dopo faccio il passo? Quindi l'importante è questo concetto. Quindi io, quando faccio il programma, la prima volta, una volta, almeno una volta, va bene che io faccia quel blocco di istruzioni oppure non voglio proprio che succeda. Quindi questa è la grossa differenza tra una struttura do while, che una volta la fa, poi controlla e poi al limite la rifà altre volte, ma una volta la fa sicuro, mentre il while controlla prima e, se è tutto ok, la fa una volta e altre volte, se no non la fa neanche una volta. Questi sono due concetti molto importanti. Bene, in questo caso, intanto andiamo a vederlo applicato al discorso dell'esercizio 14. Ho già spoilerato che usiamo il do while, quindi in realtà, almeno una volta, il nostro blocco di azioni lo andiamo ad eseguire. Qui dobbiamo scrivere un programma che acquisisca da tastiera dei numeri interi e quindi qui devo già focalizzarmi sul discorso dei numeri interi. Non conosco quanti. Io ve l'ho messo qua con la riflessione. Non conosco quanti, quindi già questo mi deve alzare un'antennina e dire no, beh, se non lo so a priori il forno lo posso usare. E non lo riesco neanche a capire andando avanti. Nel senso, abbiamo visto, ad esempio, nella lezione scorsa che è vero che non sapevo a priori quante volte lo facevo, ma acquisendo un numero e l'altro, poi l'intervallo era noto. Qua invece proprio non so quanti ne inserirò. Acquisisco dei numeri interi da tastiera, li sommi fino a quando la somma non sia maggiore di 20. Quindi ho la condizione di fine che la somma sia maggiore di 20. Allora, intanto devo pensare un attimino al discorso. Devo acquisire dei numeri. Già quando non so a priori quanti sono, sicuramente non posso pensare di avere tante variabili, ma mi basterà, e poi soprattutto io acquisisco un numero e lo metto in somma. Cioè lo acquisisco e lo metto in somma. Quindi alla fine la mia variabile numeri la posso riutilizzare tante volte, perché la vado comunque a mettere, una volta che ho acquisito, lo metto da parte e quindi non ho più bisogno di avere il valore vecchio, non mi sta chiedendo, tieni tutti i valori che ho inserito, mi sta chiedendo semplicemente di sommarli fino a che la somma non sia maggiore. Quindi quello che devo andare a fare è andare a inserire i numeri, inserire il primo numero, e poi andare a metterlo in somma. Anche qua il discorso somma. Ritorniamo a quelle che sono le variabili di accumulo. Io è come se le mettessi questa somma in un contenitore, quindi all'inizio il mio contenitore sarà vuoto perché non ci ho ancora messo nulla, quindi dovrò inizializzarlo a zero, e poi che cosa vado a fare? Vado con questa che vedete già qua nel diagramma di flusso, ma che poi ritroviamo nel linguaggio di programmazione, quella che è un accumulo, cioè vado a, ricordiamo che l'uguale vuol dire che vado ad assegnare quello che è a destra, quindi quello che è all'inizio avrò somma che è vuota, poi ci aggiungo il primo numero, quindi avrò il mio zero più il primo numero. Questo andrà a finire a sinistra, quindi il nuovo valore di somma sarà il suo valore precedente più quello che aggiungo come numero. Quindi la prima volta sarà numero, la seconda volta sarà il primo numero più il secondo numero, perché ricordiamoci che questo è il valore vecchio più quello che ci aggiungo, va a finire nel valore nuovo, quindi lo va a sovrascrivere. Il mio cesto avrò all'inizio vuoto, poi ci metterò una mela, 4 mele, 10 mele, alla fine quello si accumula e diventa il nuovo valore che ho del mio cesto. Dopodiché che cosa vado a fare? Cominciamo a vedere la struttura. Allora, da diagramma di flusso diventa così, quindi avrò un blocco, intanto vedo che è una struttura iterativa perché è ciclica, perché ho un qualcosa che torna indietro, quindi ho un blocco di condizione che è posizionato alla fine di qualcosa che viene fatto e quindi di azioni che vengono fatte e quindi capisco che è un do while, perché do è tutto quello che fai, tutto questo, e poi while, fin tanto che questa è vera. Ricordiamoci il discorso sempre che la condizione per cui si ripete il ciclo è quella vera, quindi attenzione al discorso che torna indietro e la rifà quando quella è vera, quindi se voglio fargliela fare quando invece è falsa non dovrò pensare che posso portare dietro la parte falsa ma dovrò cambiare la condizione perché questo è proprio quello che torna indietro è solo quando è vera, quindi attenzione, già quello mi fa capire è il fatto che da diagramma di flusso è un do while. Altra cosa, appunto torna indietro, dopodiché quando invece la condizione è falsa mi andrà a stampare il valore della somma. Vedete che poi alla fine qua servono solo le due variabili, quindi num e somma e il blocco che qua è piuttosto snello. Vediamo come invece il discorso come si traduce in linguaggio C. Vabbè, sotto c'è l'ende, non l'ho fatto vedere, ma lì poi finiva stampa somma, così almeno lo avete tutto per bene. Allora, andiamo a vedere come si traduce in programmazione in linguaggio C. Allora, nel nostro C abbiamo sempre la libreria di input-output, la dichiarazione di variabili. Io preferisco sempre, come vi ho già detto, mettere l'inizializzazione della variabile di accumulo nella riga parte, ma sappiamo che si può mettere anche sulla stessa riga, quindi fare la dichiarazione e l'inizializzazione, quindi qua somma uguale a zero. Sì, si risparmia un po', però così è più chiaro. specie le prime volte quando bisogna imparare proprio i concetti base. Poi, do, comando do, fai, ovviamente se è un'istruzione, una riga sola, non servono le graffe, ma qua dobbiamo farne un po' di più. Quindi dovrò fare che cosa? Ripetere, printf, inserisci numero, e leggerlo. Dopo che l'ho letto, andarlo a mettere in somma, quindi somma che diventa somma più num, fintanto che somma non è minore o uguale di 20. Quindi fintanto che il valore, se diventa maggiore di 20, esce da questo e mi stampa il valore di somma in quel momento. Quindi andiamo ad inserire il numero, ad esempio inseriamo 6, ma possiamo anche inserire il numero, numeri negativi, quindi come vogliamo, quindi poi possiamo inserire 0, possiamo inserire poi 15, possiamo inserire 8, e qua abbiamo sorpassato il 20, e quindi mi stampa il valore di somma che vale 21. qui c'è poco da da vedere di perché la strada è solo quella, quindi se ad esempio qua metto direttamente 25, avrò che ovviamente qua inserisci numero, la somma, controlla, va direttamente, lo fa una, però vedete che già subito inserito 25, comunque mi va ad uscire dal ciclo, ma il discorso inserisci il numero, me lo fa, me lo fa una volta, e poi ovviamente esce. Bene, allora, adesso vediamo come diventa in linguaggio C++, che cosa cambia? Molto poco. Ecco qua, quindi la struttura del C++, sapete che i cambi sono per quello che facciamo noi di programmi, almeno all'inizio, anche relativamente molto semplici, abbiamo sempre il cambio della libreria input output, lo using namespace std per utilizzare le istruzioni di Cine e Cout in modo semplificato, poi il resto cambia molto poco, quindi in questo caso qua abbiamo proprio solo Cine e Cout che cambiano, il resto rimane tutto uguale. Diamo un'occhiata, facciamo anche qua qualche prova, diamo ad esempio meno 20, poi diamo 50, la somma vale 30, oppure vabbè, facciamo anche un po' più di numeri, facciamo 2, 5, 3, 4, 5, 1, 10, la somma vale 30. Bene, spero che vi possa essere d'aiuto, e di essere stata chiara, fatemelo sapere nei commenti, ci vediamo alla prossima lezione e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!